Questa è la testimonianza dei fatti che ho vissuto fra il 29 settembre e il 30 settembre anno 1944. Io, Antonietta Benni, insegnante delle Orsoline in località Cerpiano, comune di Monzuno, provincia di Bologna, non lontano da Marzabotto. Erano circa 14 anni che insegnavo in località Gardelletta e poi Cerpiano, con l'inizio della guerra, a causa dei bombardamenti sempre più ricorrenti, avevamo deciso di spostare la scuola elementare, l'asilo, da Gardelletta a Cerpiano, più in alto, e in quel palazzo stavamo là con i bambini, con le loro madri, con i vecchi del paese. A un tratto cominciamo a sapere che i nazisti, insieme con i fascisti che si erano per l'occasione travestiti con la divisa dei nazisti, stavano risalendo sulle montagne, là anche sul Monte Sole, passavano per i paesi, bruciavano le case, uccidevano le persone e arrivarono anche lì. Quando arrivarono molti scapparono nei boschi, ma tanti, fra cui io stessa, ci rintanammo nella cantina sotto il palazzo. Loro arrivarono, ci trovarono tutti, eravamo 49. Di questi 49, 27 erano donne, 20 erano bambini, i bambini dell'asilo. C'erano soltanto due uomini con noi, due uomini molto anziani. I tedeschi ci fecero andare tutti quanti dentro l'oratorio, la cappella, e mentre ci chiedevamo che cosa mai avrebbero fatto di noi, sentimmo dei rumori e cominciarono a gettare delle bombe a mano dentro, le gettavano dalla porta e dalla finestra. Trenta di noi, la più gran parte, morirono là e a quel punto avrebbero potuto ucciderci tutti, ma non lo fecero. Anzi, loro chiusero la porta, ci fecero dei buchi per guardare i bambini dentro che piangevano disperati fra i cadaveri dei loro stessi genitori. E poi si misero i tedeschi a fare di tutto, sopra le aule, là nella scuola, cominciarono a mangiare, a bere, si ubriacarono, cominciarono a spaccare tutto quello che poteva essere spaccato, i giochi dei bambini, addirittura l'organo. C'era una donna con noi, una donna anziana, si chiamava Nina Fraboni Fabris, cominciò a gridare perché stava male, loro entrarono e le spararono perché gridava troppo. Poi c'era un'altra donna di nome Amelia Tossani che decise di cercare di uscire da una porticina laterale, loro la freddarono là sulla porta e lì rimase sulla porta con i bambini che urlavano, i cinghiali ben presto arrivarono e cominciarono a mangiarla. Poi c'era un uomo anziano di nome Pietro Oleandri, appena cominciò a sentire che fuori una delle sue vacche stava facendo tutti i pianti del mondo, lui non resse, prese il proprio nipotino, uno dei nipotini, il terzo di anni quattro e cercò di uscire, lo ammazzarono lui e il nipotino. Poi a un certo punto mentre eravamo là mi resi conto che in mezzo ai cadaveri c'era una bambina, si chiamava Paola, aveva sei anni, piangeva, urlava che gli avevano ucciso la nonna, l'altra nonna, il fratellino e la mamma e c'era a quel punto un bambino di anni otto di nome Fernando che si alzò in piedi e le disse vieni Paola ti aiuto io e cercava di farla muovere col fatto che lei era sotto il cadavere della sua mamma e mentre li vidi là io mi avvicinai, presi una coperta, gli dissi bambini state zitti, mi resi conto a quel punto erano gli unici due vivi insieme a me e li coprì, li coprì dopo che i fascisti e i nazisti erano entrati, avevano di nuovo sparato questa volta con le mitraglie, avevano ucciso altri tredici, eravamo soltanto noi vivi, a quel punto mi gettai a terra, loro entrarono, mi resi conto che venivano a rubare gli anelli, gli orologi, quello che c'era, si avvicinarono anche a me, siccome mi avevano ferito a una spalla e perdevo molto sangue, il mio braccio era freddo, loro ricordo che mi toccarono, sentirono probabilmente il braccio freddo, pensarono che fossi morta, i bambini non li toccarono, erano sotto la coperta, non si mossero, era il 30 di settembre dell'anno 1944, andarono tutti via, io mi rialzai, presi quei due bambini per mano, eravamo vivi.